In Puglia il numero di nuovi casi è da qualche giorno costante. Lo ha scritto su Twitter l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, consulente della Task Force regionale della Puglia, rilanciando il tweet con cui ieri sera il governatore Michele Emiliano spiegava che per tre giorni di seguito i casi positivi di Covid sono aumentati sempre intorno alla stessa cifra. La maggioranza dei pugliesi che si è chiusa in casa sta dando una risposta all'incremento del virus. Dobbiamo continuare così. Al momento infatti sono 31 le persone contagiate dal coronavirus ricoverate nella terapia intensiva ai pugliesi e 173 quelle assistite nei reparti di malattie infettive e pneumologia. Nel complesso i casi di Covid-19 in Puglia sono 478, quindi significa che poco meno del 50% dei pazienti necessita di un ricovero. Anche in Puglia si conferma quindi il dato epidemiologico. La Task Force regionale infatti ha costruito il piano ospedaliero per affrontare l'emergenza coronavirus ipotizzando uno scenario che vede la metà dei contagiati bisognosi di assistenza ospedaliera, con un 10-15% costretto a ricorrere alla terapia intensiva. La rete ospedaliere pugliese è stata smontata e rimontata in pochi giorni per essere pronta ad assistere gli oltre 1000 pazienti che si stima saranno contagiati dal virus e che avranno bisogno di un ricovero. Risulta in difficoltà invece l'ospedale Vittorio Emanuele II di Biceglie. Il nosocomio cittadino infatti ha terminato il numero dei posti letto disponibili nel reparto di rianimazione. Gli otto posti previsti per la terapia intensiva sono occupati e due pazienti trasportati con urgenza sono stati sistemati temporaneamente in sala operatoria con i ventilatori. Una situazione al limite anche per il personale sanitario che comincia ad evidenziare l'esigenza di un ulteriore aiuto, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale che vengono ottenuti per un gran numero di ore. All'ospedale Perinei di Altamura 15 unità del personale sanitario e tre pazienti sono risultati positivi al coronavirus, lo comunica il consigliere regionale Enzo Colonna. Il contagio sarebbe partito dal pronto soccorso, tutto il personale contagiato è già stato messo in quarantena e gli ambienti sono stati sanificati. Ci sono invece 32 ricoverate al Policlinico Riuniti di Foggia per il coronavirus, di cui 8 foggiani.